segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sai Andrea Giuseppe Conti amava con Rocco Casalino organizzare le trasmissioni in facebook a mezzanotte di sabato sera Giorgio Maloni vuol fare un tranquino ogni politico ha un altro modo di comunicare usando i social io direi che andiamo alla sostanza la sostanza che la presidente del Consiglio ha usato per questo tranquino un tema mostrandosi un no pos dopo aver fatto l'occhiolino e no vax adesso il presidente Maloni fa no pos e dice una sciocchezza dice che il post sfavorisce l'economia ovviamente questo non è vero da economista posso dirvi che l'uso del post è quello che si fa in tutto il mondo tutta l'Europa si va verso un futuro digitale l'Italia farà meglio a spendere i soldi del PNR sulla digitale e sfruttare le occasioni dell'economia digitale invece di criticare il post è una roba proprio antistorico e anche sciocco si aspetta fermati Lever che devo andare